Poi dicono che la vita dello youtuber è facile Appena finito di editare quel video lì Qui c'è il casino più totale Sto preparando tutta la roba Perché domani ragazzi Finalmente si torna a fare cross Vi posso già spoilerare Che ci sono dei personaggi Mistici domani Finisco di preparare tutto E noi ci vediamo domani Sigla Sleigh bells ring Dom is bling Carol sing Famous season Sleigh bells ring Dom is bling Ragazzi vi avevo detto che Oggi c'era personaggi particolari Comunque lo sai che ieri sera Cosa ti ho scritto ieri Non so se filmare Perché è un po' pesante E lui mi fa Eh ma sai la giornata tra amici è bello Ha ragione Però ieri sera come al solito Ho fatto le tre di notte per montare i video Non so come fai Non so come fai Iscrivetevi al canale il doto Perché devo dire che Non voglio fare una smielata Perché mi sta un po' sui maroni lui Però come youtuber è uno dei più bravi che c'entra Ecco mi piace come rider No Infatti per quello che vengo Con Roby Perché almeno ragazzi non mi devo cambiare nel Nel freddo e giro No no ma grazie che vieni con me solo per il caldo del futbone No no grazie Ah giusto sai Roby che ho fatto un upgrade Non serve più il martello e lo scalpello Ho comprato finalmente la chiave per aprire la ruota dietro Lasciando stare che casco sempre voncio Non lo pulisco mai Adesso provo la lente specchiata di Yves Vi lascio il link in descrizione della mascherina La sto testando Devo dire che con la lente trasparente mi sto trovando molto molto bene Oggi che c'è questo sole accecante Direi che specchiata potrebbe essere il top Ma quindi la pista in via di miglioramento? In via di miglioramento Perché sotto è bella dura Basta che le curve siano un po' meglio Ok Poi ci va forte Cinture allacciate Luci accese Sempre Col casco in testa Ben allacciato Luci accese Anche di giorno E prudenza Sempre Non si sta in piedi Torni Oi Oh How Qua è incredibilmente difficile Le wave oggi sono una roba Eccolo La cosa difficile di quando si viene a far cross rispetto a quando giriamo in bici Purtroppo, eccetto mettere la GoPro sul casco e girare Cioè, meno che non c'è qualcuno che si ferma e ti firma da fuori Purtroppo non si possono fare molti tipi di ripresa Stanno ritirando la pista Solo alcuni punti Perché erano veramente troppo molli, troppo ballerini Questa è l'ultima curva e qui c'è il salto Sembra Prime ma guardate Ragazzi Ok Per farvi capire su che cosa stiamo girando Allora, da fuori in realtà sembra Sembra buono Poi entra la moto e va dappertutto Proprio perché in realtà è molto, molto spagnato Tra l'altro era un po' che adesso non venivo adorno Sono andato tante volte a caderzate dove i salti sono più piccoli E quindi mi mancava un po' vedere come avevo imparato a muovere la moto dopo essere andato un po' di volte Purtroppo la GoPro non renderà un cavolo Ma vi assicuro che la sto muovendo Testimoni, ci sono anche gli altri Testimoni, ci sono anche gli altri Testimoni, ci sono anche gli altri Cazzo ragazzi c'era un tipo in mezzo che è dovuto inchiodare Tra l'altro comunque sempre su quel cavolo di salto Il salto con lui è maledetto Non sono ancora andato una volta a far cross E ho trovato le condizioni della volta prima Il problema è che quando le condizioni saranno belle la moto non andrà bene Sospensioni, la catena molle Sai perché? Siamo dei boomer in moto Perché non abbiamo le grafiche Cioè sia io che lui Zero grafiche ragazzi È vero Ci sono tutti qua graficati, numeri D'esto Lì che vanno forte davvero non c'hanno una delle usci Ah vanno forte davvero Ma sai che cosa? Ecco ho dato la GoPro a un mio amico Ad Alboreto Era lui che girava, infatti io lo guardavo Un toast per me Anche per me Allora anch'io il pranzo da Taleta Toast però l'acqua Ok adesso forse la pista è più scanalata però tiene il più Però devo dire che il problema è il sole E ce l'hai sempre a altezza a fine rampa E ti fa un sacco di ombra Comunque mascherina top Così non le avevo ancora usate io le mascherine specchiate Di solito non le uso molto però Devo dire che in queste condizioni aiutano parecchio Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avevo la bocca aperta anche. Cioè è sempre così. Fine giornata pista che inizia a migliorare veramente tanto perché vabbè sghiaccia, poi si formano i canali che finalmente riesco a percepire perché le prime volte che venivo dicevo perché alla gente gli piace i canali? Cioè è un binario, cioè non sta in piedi. Invece adesso inizia proprio ad appoggiarmi e uscir bene proprio. Beh allora giornata bella. Bella sì, poi comunque crossare con gli amici è super super figo. I miglioramenti vengono in maniera molto diversa, ma tu con la bici sei un pro quindi bene o male quando migliori migliori un decimo. Esatto. Se sei un racer o migliori un trick se sei uno che fai trick. In una situazione del genere migliori ogni curva, ogni salto, ogni cosa. Proprio bello. Abbiamo fatto una piccola pizza prima davanti al sandwich. Sono tante cose in ballo succulente. Niente ragazzi, noi qua adesso vado a sciacquare un po' la moto che ovviamente non è stato pieno di cacca. Grazie di aver visto questo video, spero che vi sia piaciuta anche questa esperienza in moto. La cosa difficile è sempre filmare perché non si riesce a filmare dall'esterno in moto siccome bisognerebbe avere un cameraman esterno. Cioè vorrei dire, al momento non c'è mai. Ricordate di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto che mi supportate e soprattutto lasciate un like che non costa niente. Come al solito è gratis, vi ricordo. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao.